musica 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 amici Bomber buongiorno siamo a Milano in Piazza Duomo siamo con Ines, tutto a posto Ines? tutto benissimo perché insieme vogliamo capire se anche le ragazze possono essere chiamate Bomber andiamo Torino Bologna Inter Lazio è la Sverona è la Sverona Ciao fai il pantacalcio? si tu te ne intendi più o meno di calcio? più o meno ti chiedo prendi il tuo telefonino vai alla pagina della tua ultima formazione chi ne è? tu prendi di cura di di Virgilio io ti chiederò la squadra dei tre attaccanti di Virgilio che squadra gioca? Mandzukic? non lo Juve Kalinic Mertens Inter Juve non lo sai quindi adesso io e te andremo a cercare una ragazza dove tu gli dici scusa mi puoi dire in che squadra gioca Mertens? ok andiamo? ti fai di aspettare con Ines? si si faccio sto sacrificio eh dimmi che squadra gioca Mertens? no dagli un bacio io l'ho vinto hai vinto una stretta di mano e un buon natale ahahahah perché ti faccio meglio io della sua ragazza ahah ma meglio così allora te lo fai il fantacalcio? no fai il fantacalcio? foto? no il fantacalcio lo fai? si il fantacalcio? no il fantacalcio no questa è la foto questa è la foto? vai il fantacalcio? si come ti chiami? amedeo sei pronta? no ok iguaina Juve Juve Andres Silva il fantacalcio vento scaduto se mi gioca tristissimo mira risposta esatta è grande è grande è grande tu lo fai il fantacalcio? il fantacalcio lo fai? no no cioè Babbo Natale non fai il fantacalcio fai il fantacalcio? no no che fai il fantabici? si ti bala io ho se il fantacalcio il fantacalcio il fantacalcio il fantacalcio il fantacalcio è un giocatore è anche un piatto di pasta io mi porto Roberta ti vai di restare con Ines? si 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 Mi prenderei cura di te, va bene? Ah, cosa vuoi. Ok. Ehi. 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 Lasagna? Sì. Nel piatto. Lasagna. Lasagna nel piatto, scusa. Grazie, ragazzi. Buon Natale. Grazie. Comunque avete vinto una birra. Avete vinto una cassa di birra. Grazie. Grazie. Stasera fate un po' di baldori, eh? Sì. A poco. Salute. 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 Salute.